Campionati regionali, Samuele Maestre e medaglia d'oro degli assoluti. Com'è stato questo campionato per te? Sì, come sempre è difficile, però siamo riusciti a portarlo a termine nel migliore dei modi. Primo giorno di caccia, si lavora tanto, poi dopo com'è stata la precisione? Bisogna sempre mantenere la concentrazione per cercare di chiudere al meglio. Ogni giro è sempre difficile per tutti e si prova. Complimenti, partici del tuo cavallo, chi è montato? Una cavalla italiana di 9 anni che ormai monto da un anno, penso sia un cavallo importante anche per livelli più importanti di questo. Ti ricordi l'allevamento e la genealogia della tua cavalla? Sì, la cavalla è una cavalla italiana che viene dal sud e nasce cardento per una mamma francese. Dove monti? A Crema, alle Garzide. Il tuo istruttore ti ha già detto, ti aveva già fatto i complimenti? Non ci siamo ancora parlati, diciamo. Ok, senti, al prossimo appuntamento? Al prossimo appuntamento l'eccellenza settimana prossima a Tortona. Tortona e poi fare i campionati, naturalmente. Sì, sì, penso di sì. Complimenti per la tua medaglia e ci vedremo poi. Ok, grazie mille, arrivederci.